8 feriti per l'esplosione del gasdotto di Mutignano, un'intera famiglia avvolta dalle fiamme sfuggita, fortunatamente al peggio, sono scappati dalla finestra del bagno. Le ferite maggiori sono state riportate da una donna e un bambino, attimi di panico e soprattutto di stordimento che non hanno fatto capire subito cosa stesse avvenendo. Le lezioni più grandi le ha riportate mia cognata Loredana e si è ostinata abbastanza, lei nel soccorrere la suocera, da come mi ha raccontato lei, che si è appoggiata al muro, puoi immaginare il muro è bollente, che poi d'altronde lei nemmeno se ne era accorta fino a che non l'hanno medicata in ospedale. Poi c'è mia nipote che è leggermente di meno, ma perché si è ostinata il lato del viso, più la mano, la ragazza Mary pure, il piede più la mano. Il calore causato dalle fiamme ha letteralmente fatto squagliare le auto parcheggiate fuori, esplosi anche i vetri delle finestre, le grondaglie si sono fuse, ma la presenza di vento forte non ha dato modo alle fiamme di fermarsi e così l'interno della casa è intatto. Non si può, nel senso che tirando il vento le fiamme giravano, qua davanti, io davanti a casa mia vedevo le fiamme, perché stando dentro casa, chiusa, perché le persiane erano chiuse la mattina presto, e vedevi solo le fiamme che ti inondava tutta la casa. Siete usciti da una finestra dietro? Sì, poi noi siamo andati dietro, ma per quanto mi riguarda me, io pensavo che le fiamme ce le avevamo circondate dappertutto. Poi mia figlia, lei ha aperto la finestra del bagno, che rimane dietro, e da lì siamo potuti fuggire, ma davanti a casa c'erano le fiamme. Le 11 persone che vivevano all'interno della casa sono state ospitate in un'residenza della vicina Pineto, e più in là, quando anche gli altri componenti saranno dimessi dall'ospedale di Atri, verranno ospitati in una casa in maniera provvisoria. Sono stati abbastanza disponibili nel darci immediatamente i vari alloggi, infatti noi siamo stati alloggiati, io e la mia famiglia, poi i miei suoi stanno ancora ricoverati in ospedale, perciò quando usciranno ce l'avranno a disposizione, penso, un po' più grandi, perché diciamo che lì al momento non sono tanto per 5 sì, ma per 11. Il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, che ha seguito sul posto tutti i soccorsi ieri e i rilievi di questa seconda giornata, chiede chiarezza e chiede di conoscere le responsabilità per un danno ad una comunità e a un territorio, che oggi appare un campo di guerra. La percezione è che sicuramente ci sarà una responsabilità, adesso vedremo, sarà la magistratura ad accertarla. L'aria rimarrà sotto sequestro, è stato coinvolto un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco da Roma, che adesso provvederà a rilievi sul territorio, quindi a rimettere la perizia al magistrato. Al termine di questo lavoro della magistratura ci riserviamo anche come comune di nominare un perito, anche di parte se vogliamo, perché in qualche modo è stato colpito un territorio e la sua popolazione.